Questa mattina parliamo di agenzia delle entrate o meglio di una cosa simpatica che riguarda e ha riguardato un contribuente con l'agenzia delle entrate. Questo contribuente si vede recapitare una missiva da parte dell'agenzia delle entrate dove nell'oggetto viene riportato, leggo testualmente, notifica di rimborso e proposta di compensazione ex articolo 28 terre eccetera eccetera. In pratica l'agenzia delle entrate scrive a questo contribuente dicendo io vorrei rimborsarti 1000 euro e anziché però darti 1000 euro accreditandoti il corrispettivo economico sul tuo conto corrente, poiché tu devi all'agenzia delle entrate 118.000 euro ti chiedo di fare 118.000 meno 1000 in modo tale che rimani debitore solo di 117 anziché di 118.000. Quindi dal punto di vista della comunicazione uno dice ma guarda che simpatici che bravi che sono questi funzionari dell'agenzia delle entrate che si prodigano per comunicare al contribuente che a lui vanno restituiti 1000 euro ma siccome questi 1000 euro ma siccome questo contribuente deve dei soldi all'agenzia delle entrate gli propongono la compensazione. poiché di queste comunicazioni di riconoscimento di un credito da parte dell'agenzia delle entrate al contribuente sono rarissime e questo tipo di offerta di andare a restituire questi soldi se ne sente parlare quasi mai per non dire mai, ha fatto accendere un campanello d'allarme. tant'è che ho preso in mano la posizione di questo cliente e sono andato a vedere il debito che questo aveva sul cassetto fiscale e in effetti questo contribuente sul proprio cassetto fiscale ha un debito nei confronti dell'agenzia delle entrate di questi 118.000 euro ma che cosa è saltato fuori? che questi 118.000 euro sono tutti prescritti, cioè sono passati abbondantemente gli anni per la tipologia dei tributi che hanno fatto intervenire la prescrizione quindi è vero che questo contribuente doveva 118.000 euro all'agenzia delle entrate ma è altresì vero che 118.000 euro essendo maturata la prescrizione il contribuente non doveva e non deve più restituirli all'agenzia delle entrate quindi l'agenzia delle entrate avrebbe dovuto fare una comunicazione diversa qui avrebbe dovuto dire caro contribuente ti rendo noto che i 118.000 euro che risultano sul tuo cassetto fiscale non ci sono più perché essendo intervenuta la prescrizione sono stati espunti in più siccome abbiamo visto che ti dobbiamo restituire 1.000 euro dici su quale conto corrente gradisci che ti mandiamo i 1.000 euro invece sui 118.000 euro prescritti nulla dicono dicono solo i 1.000 che ti devo te li compenso con quelli andiamo ad approfondire ulteriormente e che cosa scopriamo? scopriamo che se questo contribuente avesse risposto positivamente all'agenzia delle entrate dicendo ti ringrazio di avermi fatto presente questo e di avermi scontato i 1.000 euro compensandoli avrebbe fatto un riconoscimento di debito generando una riviviscenza dei 118.000 euro prescritti sì avete capito bene cioè l'agenzia delle entrate con questo definiamolo apparente comportamento corretto ha invece messo in atto un trappolone con il quale grazie al quale il contribuente accettando i 1.000 euro avrebbe riconosciuto il debito e questo debito si sarebbe rigenerato come un po' l'araba fenicia che risorge dalle proprie ceneri e avrebbe perso la caratteristica di essersi estinto per prescrizione ma sarebbe risuscitato e quindi il nostro contribuente si sarebbe trovato con un debito di 118.000 euro per aver accettato questa proposta ora voi da parte dell'agenzia delle entrate ora voi capite che da un organo dello Stato o una società dello Stato uno non si aspetta che ti gettino un'esca per farti incorrere in un errore e farti il trappolone in questo caso da 118.000 euro da un'agenzia delle entrate ci si aspetta un comportamento trasparente schietto e nobile che ti dica caro contribuente guarda è intervenuta la prescrizione noi non abbiamo fatto niente nel frattempo riconosciamo quindi che il tuo debito con noi si è estinto in più abbiamo i 1.000 euro da darti dove te li mando? invece vestendosi di finto atteggiamento collaborativo e corretto per la restituzione dei 1.000 euro gli hanno creato questo trappolone per generare e rigenerare il debito di 118.000 euro potremmo dire quindi che è stata apparecchiata un tentativo di inculazio cum penetrazio come direbbe Seneca al solo fine di fare in modo che il contribuente resti sempre e solo qualcosa e qualcuno da spremere senza una dignità che invece anche a livello codicistico gli è riconosciuta di poter essere trattato come merita e vedersi riconosciuta in questo caso una prescrizione che invece questi signori dell'agenzia delle entrate non hanno neanche minimamente taciuto quindi sempre allerta perché non sai da quale parte il nemico si avvicina e soprattutto quando si avvicina alle spalle può essere anche fastidioso sotto altri punti di vista buongiorno a tutti